Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da Buonasera gentili amici telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Altro Studio Sport. Come sempre tantissimi gli argomenti di cui parlare in questa serata. Iniziamo subito presentando la nostra valletta, Cristin. Buonasera Cristin. Buonasera, buonasera a tutti. Colgo l'occasione per ricordare i nostri contatti. Potete telefonarci o mandarci messaggi al 392 95 85 364 o scriverci mail al infochiocciola.it o potete seguirci sui social attraverso l'hashtag Altro Studio Sport. Bravissima Cristin. Dopo sicuramente leggeremo i messaggi. Iniziamo però anche presentando gli ospiti e cominciamo dal Cavalier Sergio Brighenti. Buonasera Sergio Brighenti. Buonasera al grande conduttore e a tutti gli ospiti che ci guardano. Dopo un caffè è... Almeno no, al minimo. Il minimo. Antonello Bratti. Buonasera a tutti. Marco Basoni. Buonasera a tutti i nostri amici. Dobbiamo iniziare subito dalle polemiche perché si è chiusa finalmente la pagina relativa a Calciopoli. Dopo tantissimi anni Moggi è stato prescritto. Iniziamo da Marco Basoni. Voglio una tua opinione su Calciopoli. Innanzitutto bisognerebbe spiegare che prescritto non vuol dire assolto. Esatto, perché tanti hanno scambiato... Tanto dice che vuol dire che è passato in Cavalleria ma non è stato assolto. Assolto Bertini e Dattino. Gli altri due arbitri ma se ricordiamo ai tempi forse ce n'erano coinvolti altri. Comunque torniamo ai fatti ormai come parlare della preistoria nel calcio. Infatti l'arbitro De Santis che un po' era quello che teneva un po' le file. Il campo tra virgolette. Sì, un po' quello che teneva le file. Chi ha rifiutato la prescrizione è stato condannato. Perciò questo è il significato. Poi che è arrivato all'alba del marzo del 2015 e tutte queste cose qui con sette ore, sei ore di Camera di Consiglio. Cioè tutte queste cose qui ormai lasciano il tempo che trovano. Ovviamente chi di dovere dirà che lui non è stato condannato. Moggi ha già detto che non è una sconfitta. Sei d'accordo con questa affermazione Antonello? Assolutamente no. Perché mi leggo il fatto a quello che diceva adesso Marco. La prescrizione non è una soluzione. Quindi assolutamente non se ne parla. E' chiaro che dall'altra parte Moggi abbia porti a sé queste affermazioni perché dice nessuno mi ha condannato per cui a questo punto... Tra l'altro la Corte ha confermato l'associazione a delinquere. Non un reato. Qualcosa di poco. Da poco. Esatto. Per cui io sono... È solo pubblicità per lui per dire vabbè io sono fuori, sono estraneo. Ma non è così assolutamente proprio per niente. Cavalier Briganti, la sua opinione? Io sono ancora un collaboratore federale però quello che devo dire lo dico. Il signor Moggi ha avuto dei problemi da risolvere e purtroppo ha coinvolto molto calcio. Addirittura il campionato mondiale del 2006 è stato messo in discussione dal presidente federale e anche dal presidente della UEFA che addirittura non ci ha premiati. Per questo non posso dire che cosa abbia fatto il signor Moggi e i suoi collaboratori in questo campionato mondiale però sta di fatto che non abbiamo avuto la premiazione. Lei è d'accordo comunque che non è una vittoria di Moggi? Io non vado oltre però posso dirvi una cosa. Nel passato che voi non eravate neanche nati non c'era un'organizzazione come c'è stata in questo ultimo periodo appunto di affari anche di scommesse compresi giocatori, allenatori così. non era mai anche pensato al cervello degli anni per esempio 40 e 50 queste cose. Velocissimi, su una cosa però siamo d'accordo, nove anni sono davvero troppi. Inizio da lei Brighenti. Sono troppi sì. 2006-2015. Assolutamente sì. Io ti volevo dire che proprio ieri ho partecipato a un convegno sulla lealtà nello sport da parte dell'Istituto di Certificazione Etica dello Sport. Ecco, questo è proprio un caso completamente all'opposto e speriamo che di queste situazioni non ce ne siano mai più nel calcio italiano. Ma è quello che manca all'Italia forse, allo sport italiano. Ma è uno di quelli che per anni ha allontanato la gente dagli stadi. Poi sono subentrati il fatto che gli stadi sono scomodi, sono subentrati altri problemi. Sono obsoleti, sì. Le squadre che non vanno, alcune che non vanno bene. Ma la mancanza, poi le televisioni, però la mancanza del pubblico, del pubblico reale, le cosiddette famiglie, i ragazzi, i giovani che non vanno più agli stadi ma stanno davanti dal televisore. Una delle ragioni è proprio stato per questo, il distaccamento totale che c'è stato con quegli anni lì di calciopoli. Questa è la verità che piaccia o non piaccia al signor Luciano Moggi. Lo attacchi frontalmente Luciano Moggi. Sì, anche perché lo conosco e so di che cosa è stato capace. Io l'ho purtroppo per motivi di lavoro anche frequentato. E come tutti i grandi simpaticoni, è stato un grande truffatore. Questa è la verità, poi. Ai fini dei risultati calcistici e ai fini della sua Juventus di quel tempo. Antonello, quanto siamo indietro rispetto al calcio tedesco, spagnolo, inglese? Anni luce. In Italia siamo indietro tantissimo. Più a livello tecnico o più invece come strutture, come realtà, come ha detto Marco prima? Tutto, sia come diceva Marco adesso a livello organizzativo, sia di strutture. È proprio un insieme di situazioni che non aiutano, veramente come diceva Marco, gli appassionati di calcio ad andare allo stadio. Io ho vissuto in Olanda per un paio d'anni, sono andato allo stadio. Era bello andare allo stadio, bello a qualsiasi livello. Come viene visto il calcio fuori, il calcio italiano fuori? Come viene visto? Non viene visto bene, perché comunque le scene che si vedono anche tra i tifosi, la Roma l'altra volta che è andata, i giocatori che vanno sotto la curva, all'estero non esiste una cosa del genere. Io parlo di nazioni come Germania, con Olanda, come Inghilterra, dove comunque anche lì ci sono problemi con i tifosi. Gli hooligans arrivano da là, per cui il problema grosso è veramente aiutare il calcio nell'invitare, nel riuscire a riportare allo stadio la gente per tifare, per tifare la propria squadra e le famiglie. Adesso a Milan Cagliari c'erano tanti ragazzini perché con lo sciopero della curva hanno portato tutte le scuole, ma non è quello. Io devo andare con la mia famiglia, con i miei figli allo stadio a potermi divertire. Possibilmente pagare un po' il biglietto, magari non in modo caro, ma pagare un po' il biglietto. È giusto. Cavalier Brighenti ho visto che voleva intervenire su questo argomento. Sì, io purtroppo, devo parlare da tanti anni fa, c'è sempre stato un grandissimo interesse sul calcio italiano. Dovunque andavo, ho cominciato a giocare il campo internazionale a 16 anni, giocando contro l'Austria a Bologna, Under 18. Già da quei tempi c'era un interesse eccezionale a Bologna. C'erano circa 20.000 spettatori a vedere Under 18, Under 18. Io avevo 16 anni contro l'Austria. Poi la seconda partita che ho fatta l'ho fatta col Nord Italia, perché noi si giocavamo ancora col Nord Italia perché era spezzata l'Italia. Giocavamo a Berna contro la Svistera e facemmo due a due. E anche lì un entusiasmo di gente enorme. Prima tanto entusiasmo intorno al calcio italiano, ora invece a causa di una serie di situazioni, il calcio italiano è in depressione. Cristin, so che sono arrivati alcuni messaggi, soprattutto su Calciopoli. Sì, abbiamo una domanda per Marco Basoni. Sono un tifoso juventino. Dopo questa sentenza si può definire Calciopoli una farsa? No, per parte abbiamo risposto. L'abbiamo in pratica. Detto prima è stato tutt'altro che una farsa. Prova ne è che i dirigenti stessi della Juventus allora patteggiarano e addirittura la squadra doveva essere mandata in serie C, patteggiarano e in un modo o nell'altro la Juventus pure è trocessa. Poi c'è il caso dello scudetto non assegnato, la P, entriamo in altre che forse non doveva essere assegnato. Apriamo anche questo capitolo. Cavalier Brighenti, lei è d'accordo? Calciopoli non è stata una farsa? No, no, sono stati coinvolti anche dei giocatori di carattere nazionale come Paolo Rossi. Voi non dimenticate che Paolo Rossi è stato squalificato. Quello nell'82 però. Ah, lei vuole partire con tutti gli scandali che ci sono stati nel calcio italiano. Ma non li avete dimenticati? No, 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 assolutamente, purtroppo. In questi ultimi 30 anni c'è stata proprio un'involuzione. Parlo di 10 anni, fino a 10 anni fa, hanno scoperto giocatori che si organizzavano addirittura in Riviera, nella zona di Milano Marito e così, e facevano le scommesse d'accordo con l'Albania, Singapore e così. Cose di questo genere. Queste sono le peggiori queste cose. Mi spiace che Signori era un giocatore convivolto come Signori. È arrivato quasi a 200 gol in Serie A, è stato coinvolto. Tu, Antonello, sei d'accordo, Calciopoli non è stata una farsa? Sicuramente no. Sicuramente no. È stata l'occasione per comunque cominciare ad affrontare anche il problema legale, legittimo di queste situazioni che non ci devono essere, purtroppo. Però in effetti i tifosi giuventini ricordano che quei due scudetti sono stati vinti sul campo. Quello è vero. In effetti la squadra era la più forte, ha vinto forse anche meritatamente, perché mi ricordo di 90 punti in quelle stagioni. Sì, sì, sicuramente sì. C'è anche da dire che adesso sull'onda di questa sentenza sicuramente André Agnelli porterà... In poche parole, la Juventus fa bene andare, continuare a credere... Sul campo li ha vinti questi qua e il quarto che sta vincendo adesso. Tu non sei d'accordo con quei due scudetti sul campo? Ma per niente, ma per niente. Perché quando venivano comandati addirittura i cartellini gialli, in modo tale che il giocatore venisse squalificato la domenica dopo quando incontrava la Juventus, e queste ci sono prove e straprove, come si fa a dire, erano i più forti, dovevano vincere sul campo senza l'aiuto di signor Moggi, degli arbitri e di tutta la cupola. Questa è la verità. Perciò non è affatto vero che questi li stanno vincendo sul campo e la Juventus è decisamente la più forte. Dovevano vincere anche qui con l'estrema lealtà nello sport e nella vita. Chiudiamo poi la parentesi calciopoli. Poi basta perché altrimenti guarda inutile incavolarsi con cose passate nel calcio. Seconda domanda. Sempre su questo argomento, secondo voi è stata cercata la prescrizione da Moggi? È stata cercata la prescrizione da Moggi. Anticipiamo solamente quello che sarà l'argomento della seconda parte di questa trasmissione. La nazionale, tantissime polemiche. Brevemente, Sergio Brighenti, Oriundi nazionale. Sì o no? Io ho giocato sempre con gli Oriundi, perché abbiamo vinto due mondiali con gli Oriundi. Io avevo... È d'accordo perciò con gli Oriundi nazionali? Al mio piano che avevo Sivori, Angelillo, Montuori. C'erano cinque Oriundi ogni volta che giocavamo con la nazionale. Ma erano Oriundi di origine italiana. Vado d'Antonello? D'accordo? Sì, con delle regole. Nel senso sì, che sia comprovata comunque. Naturalmente le spiegherai nella seconda parte, approfondiremo questo argomento. Tu Marco... Io sono d'accordo con quello che ha risposto il commissario tecnico Conte, che ha detto io ho fatto una cosa che hanno già fatto altri, li valuterò, questi due giocatori che secondo me possono valere la maglia azzurra, perché? E poi decideremo. Secondo me questa credo che sia una risposta esatta. Questi sono stati chiamati, lui ha fatto una cosa che avevano già fatto altri e poi si vedrà. Allora scusate se vi interrompo, ma dobbiamo andare in pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo, rimanete con noi, non cambiate canale.